Musica Buongiorno amici e amiche di Volonbrite, siamo alla scuola Holden dove si è tenuto, anzi si sta tenendo il convegno del progetto ARIA, il convegno annuale, dal titolo ARIA di autonomie. E siamo qua col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva, a cui in realtà iniziamo chiedendo un po' un pensiero, una riflessione, una suggestione su quello che è stato il convegno fino ad adesso. Ma direi proprio un'esperienza interessante, un'esperienza di integrazione tra età diverse, voci diverse, esperienze diverse e in generale tutti nella logica che l'autonomia è davvero un po' la scoperta di sé nella relazione con l'altro. Quindi non è uno spazio autistico, solitario o anarchico, è proprio uno spazio di co-costruzione che necessita di competenze complesse che devono essere allenate. Il suo intervento si è focalizzato molto, ha dato alcuni spunti anche teorici su quella che è l'autonomia nel regolarsi, nell'autoregolarsi dal punto di vista emotivo e affettivo. In qualche modo insomma lei è abbastanza famoso nel campo per gli interventi, anche nelle scuole che fa sull'educazione sessuale da una parte e affettiva dall'altra. E quindi volevo chiedere quali sono gli elementi principali che perseguite in questi percorsi, cioè i vostri obiettivi insomma. Direi aiutare chi cresce a comprendere anche come la dimensione dell'affettività e della sessualità da gestire in autonomia debba muoversi da un semplice principio del piacere ad un principio invece più complesso, che è il principio di realtà e di me e della mia autonomia e dei miei bisogni in relazione con la tua autonomia e i tuoi bisogni. Quindi una visione della sessualità che da puramente eccitata, eccitatoria diventa invece intima, relazionale ed emotiva. E quindi una dimensione complessa di sé dove io mi sento veramente autonomo nel momento in cui so mettere in gioco in questo spazio della vita e della crescita competenze come la responsabilità, il rispetto, l'empatia. E quindi dove tu diventi un altro necessario a costruire la mia sessualità e non sei, quindi sei un soggetto della mia sessualità e non un oggetto, che credo sia una visione in questo momento rivoluzionaria perché il rischio è proprio quello di costruire una sessualità dove prendo quello che mi serve per stare bene e alla fine rimango davvero un bambino in una posizione molto infantilizzata che non ne vede la dimensione invece adultizzante e autonomizzante. Rispetto, responsabilità, empatia e anche riconoscimento della soggettività degli altri è spesso una richiesta, non una richiesta, sono spesso delle richieste che vengono fatte principalmente alle ragazze, quindi alle adolescenti. Viene chiesto sulla base del genere, di alcune aspettative di genere, di curare le relazioni, di stare attente alla soggettività degli altri. E ad avere sempre rispetto, insomma. Mentre magari spesso non accade il contrario. Secondo lei è sempre vero? Secondo lei è un qualcosa che dobbiamo accettare perché è una prerogativa biologica? Oppure sono spettative solo socioculturali? Mi verrebbe da dire da una parte che davvero il femminile ha un'attitudine, una familiarità, una competenza molto maggiore sugli aspetti relativi. relazionali è indubbio che, mentre il femminile sa molto più stare in relazione, il maschile è molto più spostato solo su un'azione, a volte poco pensata e poco elaborata. Cioè parlando di sessualità, per esempio, effettivamente la pornografia che è pura azione eccitata, senza una narrazione che viene prima e dopo. L'agito sessuale eccita il maschio, ma a volte addirittura disgusta il femminile. Quindi qua dentro io vedrei anche proprio un valore che probabilmente voi ragazze, voi donne, dovete un po' fare la fatica di insegnare a noi uomini. Credo che sia anche la premessa per fare vera prevenzione della violenza di genere e per fare una vera educazione di genere, che molte volte è intesa come aiutare le ragazze a difendersi dal maschio violento, ma in questo modo è un po' come se cristallizzassimo il femminile nella posizione di vittima e il maschile nella posizione di aggressore. Credo che la vera rivoluzione sia aiutare i maschi a comprendere quella parte che noi chiamiamo femminile, che invece è profondamente iscritta nel nostro cervello e che implica competenze relazionali, competenze emotive, competenze empatiche, competenze di verbalizzazione, dare parola a quello che sento e che troppo spesso è trascurato nella crescita al maschile. Più in generale penso proprio che questa diventi anche una responsabilità del contesto socioculturale, della politica, dell'educazione, a generare una vera educazione di genere che permetta alle ragazze di non sentirsi poi come delle educatrici dentro una relazione, ma di entrarci alla pari perché hanno di fronte a sé delle persone che sono oggettivamente capaci di stare alla pari con delle richieste che non sono solo funzionali ma sono veramente indirizzate a realizzare il meglio del nostro essere umani. Grazie mille.